Ok, tutti i minuti qui ragazzi, qui lo chiedono. La nuova sede dell'AC di Como in Viale Masia ha avuto un padrino d'eccezione, niente meno che Jean Todd, presidente della FIA, Federazione Internazionale dell'Automobile. L'ex ingegnere della Ferrari si trovava a Como in occasione della settimana dedicata all'automobile, un ciclo di incontri che si svolgono a Villa Erba a Cernobbio. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, il comasco Enrico Gelpi, ha colto la palla al balzo e ha invitato Jean Todd all'inaugurazione della nuova sede, dove hanno tenuto insieme a Brian Gibbons una conferenza sul tema della sicurezza in auto. Obiettivo della FIA nei prossimi dieci anni, hanno spiegato, è di dimezzare il numero dei morti sulle strade del mondo, portandoli da 10 a 5 milioni.